Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo ancora ritornati su Monster Savit, cioè il gioco, perché ho ricominciato il gioco perché mi piace sto gioco. Adesso raga sono un maschio e non più una femmina perché Naruga, come potete notare, cioè no, io sono Scar, non è Scar, giusto, vabbè, andiamo. Adesso ho delle importanti missioni da fare Questo gioco consiste nel Eccoci, questa è la fonte Mi fuggi Mi fuggi lì, ragazzi Mi fuggi Ma piccolino Troppo oggi Come mai si è scomparso? Ah, ok Binocolo, grazie Andiamo a purificare la pietra del legame Mi basso un po', ragazzi No, cosa? Sta zitto una revu Ecco Questo sono io Che sto pietrificando la pietra del legame Quella lì è azzurra, non so se si vede Ecco, si è potenziata Non so se mi ragazzi Non fateci caso Ragazzi, adesso andiamo a guardare il capoglio La pietra del legame è rarità Non mi interessa Andiamo prima che arrivi con qui Forza Cosa? Ma perché mi sono fermata? Ragazzi Cos'è successo? Io non Non capisco Salto un attimo Ragazzi Desbassito Chi è stavolta? Naruga Ragazzi è Naruga Perché stai usando il potenza? Eh No, perché? La velocità batte potenza Aiuto Bravo No, ma che? Ma perché sei stupido? Naruga Sei pazzo Tieni Imitazione Bravo Dai però Non usare potenza Provo il supporto Quello che ha Tieni Tieni Ma che? Raga È satana Sto Raga Guardate gli occhi Sembra satana Ragazzi La pietra del legame è carica Io so che cosa c'è di bello Sulla pietra del legame Narivu Stai un po' zitto Per favore La tecnica batte velocità Guardate Ecco Sopo così Point Ma dai Che bello Sto gioco Gli occhi Sono inquietantissimi Ragazzi Testa Testa Ecco Contento? Dai Siamo quasi Ragazzi C'è qui il gioco Che ti riesco Saluta Ciao Oggi dobbiamo assolutamente sconfiggere una liga Ma sto due Il tuo gatto è proprio iniziare la fame Direi Di Sì Ma è quel gioco del mondo Sì 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 Si batteri Sì 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 guadagnato lacrima splendente ottimi mica male ragazzi è stato un impreso ricordatevi quando si batte contro una lunga sta scappando con la coda tra le zambe e non tornare consiglio da charlatano già a posto chiudi di così ragazzi contro una ruga tecnica perché se usate potenza il giorno seguente andiamo a vedere o il capo villaggio ama chi c'è capo villaggio che c'è ma è tutto buio ma si vede una cchicchia giulio jess giulio jess io gioisco perchè con l'ambiente da sabato il villaggio perciò tutti noi ti rendiamo omaggio grazie quando da qui uscirai la vita del rai del comincerai la nuova di mostro sono un vero tesoro diventerei più forze di curare di loro la vita di un mostro è un grande bene e sono tutti noi sostiene hai mai adorato la racconto perchè ti devi da coniglio poi che vuoi saltiamo ragazzi o ascoltami un po' potenziali la spada mi sa che non puoi guarda la costanza materiale grazie vediamo la lacrima splendente a lei la venditrice di si sta preparando la zuppa la zuppa di shop allora no compro secondo te jacky è meglio comprare erbe minocolo coltello da laccio o cut secondo te l'erbe servono per curarsi l'erbe servono per curarsi ma quelli li puoi trovarli già gratis coltello da lancio forse scusate ragazzi se perdiamo tempo perché ok basta possono bastare dobbiamo vendere gli oggetti lacrima splendente di naruga ne vendo due scusate vai andate insieme ragazze quando ti arriva il whatsapp non lo rimanghi avanti con il whatsapp ehi giuno cesare si mi è arrivato salta un attimo ragazzi vieni con ma prima di andare a fare queste missioni è meglio salvare se no non so se l'avete visto questa casa ma credo che nei precedenti episodi l'avete visti guardatelo come dormi che poi la casa è carina io me la immaginavo col piano di sopra un po più grande la casa più grande di quella casa è l'erbe già cambiamo il colore dell'armatura questa volta me la metto verde poi cambia pettinatura se sei brutti porasta ok ok è il mio colore del tutto nero con la pelle nera non va bene forse lo stai si ok sono pronto ragazzi ma che cavolo ma va via ok scusate ragazzi mi erano arrivati stai un bambino eh accidenti amico la mamma mi ha chiesto di pescare ma la pesca è rotta rider a vedere mi devi aiutare ho solo proprio i miei guai per pescare tocca la pesca vicino si può cliccare l'acqua dove vedi l'ombra di pesce e grazie non diciamo niente di questa storia mia madre d'accordo ecco ecco i pojil valgano sperdotti nel mondo se perdi con uno di loro ti seguirà in città trova tanti pojil e si dice che succederà qualcosa di buono hm ragazzi ho delle missioni importanti ma non riesco a perdere ragazzi guardate dan scrivete hashtag dan sbatte la faccia mi prego scrivetelo dovete scrivere assolutamente hashtag dan sbatte la faccia vi prego che faccia oddio santo va bene diamo freddo a questa preghiera all'inizio ragazzi vi ricordo della storia che non c'era questa specie di altare però vabbè ok andiamo è delle missioni importanti ragazzi in lontananza ho visto un altro pugil andiamo a prenderlo prima che con l'altro pugil del luglaggio si è rapido quindi andiamo a prenderlo ok vi mostro un trucchetto perché se volete guardate guardate scendiamo un attimo a questo ok possiamo andare ecco ragazzi laggiù c'è il poggi aspettate che mi metto ma dai che colpo questo è il pugil però è un altro buying raga concludo ciao 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 no no Grazie a tutti.